Ciao tot ventilatori e benvenuti su questo video in cui vediamo come calcolare qualsiasi derivata. Se avete fatto una derivata e non sapete se sia giusto o meno, oppure se semplicemente non siete in grado di fare una derivata, potete sfruttare questo utilissimo tool che trovate online, esiste anche l'applicazione, si chiama WolframAlpha. Ok, è un calcolatore che vi permette di fare un'infinità di cose, tra cui anche lo studio di funzione, il calcolo della derivata, il calcolo dell'integrale, così via. Allora, come facciamo a calcolare una derivata? Semplicemente, nella barretta qui, dobbiamo scrivere d fratto dx, ok? Ovviamente dipende se la funzione è funzione dx e voi volete la derivata rispetto ad x, mettete dx. Se la funzione è scritta con la t, per esempio t alla seconda più 2t, e volete derivarla, scriverete d fratto di t, ok? Dove lo slash significa diviso. Apriamo la parentesi e scrivete, ragazzi, la funzione che volete derivare. Per esempio, logaritmo naturale di x meno 14 per x alla terza, anzi alla tre mezzi facciamo. Ok, dove per elevare un numero a un altro bisogna usare il cappuccio, per fare la moltiplicazione si usa l'asterisco, logaritmo naturale ln e così via, ok? Bene, una volta fatto ciò, semplicemente cliccate invio, oppure c'è il pulsante qua di fianco, compute, il pulsante uguale, lo premete, e tac, vedete, vi ha calcolato la derivata della vostra funzione. Quindi la derivata del logaritmo di x meno 14x alla tre mezzi è semplicemente 1 fratto x meno 21 radice di x. Se poi volete anche vedere i passaggi per trovarlo, c'è il pulsante step by step solution, lo cliccate e potete vedere una parte del procedimento perché per vedere tutto il procedimento ci vorrebbe la funzionalità pro, potete anche decidere di optare per l'acquisto della funzione pro se ne avete bisogno, questo tool è comodissimo, quindi potreste benissimo valutare questa possibilità e se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, se avete delle domande o dei suggerimenti scrivetemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!